ciao a tutti allora dopo video che vi ho caricato ieri sì lo so sono una sfornatrice di video folli però vabbè insomma mi è venuta così in effetti la riflessione fatta sulle case editrici mi ha anche portata insomma un pochino più lontano stavo pensando che in effetti leggendo insomma comunque anche i vostri commenti sotto insomma avete avuto una partecipazione pazzesca per questo video e ne sono veramente veramente felice però mi mi è saltata all'occhio una cosa siamo tutti d'accordo che le case editrici magari adesso si stiano buttando più sul commerciale che sulla qualità ma in effetti che cosa fa di un buon libro un buon libro cioè quali sono gli elementi che per voi e per me fanno diventare un libro un un oggetto che ha del significato dell'importanza che insomma un oggetto non soltanto commerciale ma anche culturale ma anche di svago piacevole e quant'altro pensandoci un po mi sono fermata dicendomi perfetto ogni persona diversa ogni persona ha una sua concezione di bello e brutto questo è normale ci sono poche cose diciamo insindacabili che sono magari lo stile di scrittura o la correttezza grammaticale o insomma la linearità di una trama che almeno per me dovrebbero essere il punto fulcro e focale di un libro e che dovrebbero renderlo un buon libro però magari per me una cosa che in effetti a voi fa apparire un libro come di qualità a me potrebbe non fare lo stesso effetto ed è questa la mia domanda secondo voi che cosa rende un libro un buon libro allora per me un buon libro deve avere molte caratteristiche e in questo caso andiamo sullo specifico anche nella nella versione insomma nella parte di scrittura la parte di composizione e quant'altro ma anche altre cose che magari sono un pochettino più frivole che comunque una casa editrice è tenuta a fare per far vendere il suo prodotto ma che comunque non vanno a discapito del prodotto stesso diciamo già dicendola in parole semplici a me un libro quando entro in una libreria ovviamente la prima cosa che mi attrae è la copertina la copertina non è da sottovalutare è una cosa importantissima per un libro per vendere un libro e per la presentazione generale di codesto io ho tirato fuori un libro che se non avessi letto la trama per esempio non avrei mai comprato non avrei mai amato questo punto perché in effetti questa copertina è proprio brutta ok è veramente bruttissima però per dirvi questo per dirvi che certo la copertina attrae ma non è tutto seconda cosa che cosa può avere un libro per attrarre me lettrice deve avere una trama particolare una storia nuova una storia che al suo interno qualcosa di non sentito di mai letto di mai visto perché a lungo andare i libri che si ripetono le trame tutte uguali basate su lui e lei lei triste lui cattivo che si incontrano e si che cioè si cambiano insomma l'uno l'altro sinceramente mi hanno stancato sono tutti uguali insomma io vado alla ricerca di una trama che per me abbia qualcosa di nuovo qualcosa di interessante quindi questo può essere il secondo punto il terzo punto per me un libro deve avere un certo stile di scrittura questo va sicuramente a preferenza personale perché a me piacciono i libri poco descrittivi e con molti dialoghi questo è il tipo di libro che mi piace ovviamente un po' di descrizione ci deve comunque essere perché ovviamente bisogna come dire inserire questo dialogo in un contesto però la descrizione io ho una mente abbastanza una fantasia abbastanza fervida e a me basta poco spunto per crearmi nella mia testa l'ambientazione in cui inserire questo dialogo particolare un dialogo insomma qualunque durante un libro poi magari un libro per me deve avere anche personaggi interessanti ok non può essere il postino che vive sotto casa non può essere non lo so la tua lattaglia oppure l'impiegata della mensa non lo so io quando leggo cerco di estranearmi dal mio mondo reale perché ne ho abbastanza del mondo reale è già abbastanza pesante di suo senza che io vada a leggere del mondo reale anche all'interno di un libro quindi mi serve qualcosa di strano magari è per questo che più delle volte sono rientrata orientata verso i fantasy distopici i come si chiamano non mi vengono i mix quelli che io chiamavo un tempo i gotici quelli con personaggi strani magia creature magiche e quant'altro oppure personaggi che non sono appartenenti alla mia epoca ossia quelli ambientati anche soltanto negli anni 50 quelli ambientati nei miei periodi storici preferiti quelli che parlano di re regine o delle condizioni del popolo durante un regno particolare una guerra un qualcosa che mi allontani dal mio presente che mi allontani dal mio come dire dal mio mondo reale perché io e questo che cerco momento di svago un momento per estragnare me stessa dal mio corpo dal mio presente e vivere un'avventura che io non potrei mai vivere se non attraverso le pagine di un libro cosa fa poi di un libro un buon libro certamente anche questo è un diciamo una cosa molto personale ecco il tema il tema di un libro insomma a forza di parlare cioè premessa io sono un'inguaribile romantica adoro le storie d'amore mi piace moltissimo di leggere di storie d'amore soltanto che poi dopo mi monto la testa e non penso più al mondo reale e quindi diciamocelo dopo la disney i libri sono coloro che hanno forviato me stessa e hanno modificato la mia mente e i miei gusti ed è per questo che magari ho aspettative un po' alte per quanto riguarda le storie d'amore comunque sì vorrei la storia d'amore e però non voglio leggere delle storie d'amori la storia d'amore semplici mi piacciono le storie d'amore travagliate mi piacciono le storie d'amore particolari mi piacciono quando c'è in mezzo del mistero non quei due che semplicemente si vedono si incontrano si amano a finita io voglio che certo si vedano certo si piacciano ma che ci sia un po' di gioco un po' di sensualità magari un po' di di patos prima del grande momento di amore eterno dichiarato davanti alla corte questo fa molto l'incantesimo dell'ago ma fa lo stesso quindi in generale quello che fa di un buon libro cioè di un libro un buon libro è il lettore no siamo noi lettori che giudichiamo per il nostro gusto personale se un libro è un buon libro o se un libro non è un buon libro ma per noi ok ovviamente quei tipi di libri di cui parlavo ieri nel video che magari vi lascio linkato sotto non appena riesco ad accedere dal computer o comunque che troverete si chiama ma dove stiamo andando a finire e in effetti quei libri io che penso che tutti noi possiamo definirli uno proprio qualcosa che nessun lettore magari un pochettino navigato potrebbe trovare minimamente piacevole anche soltanto quando non so ci viene regalato sto libro ti senti magari in dovere di dargli una letta prima di venderlo ecco io non lo farei per esempio però ciò che fa di un libro un buon libro è la buona opinione che il lettore ha di lui perché ci sono talmente tanti libri che io reputo meravigliosi che magari altre persone o non hanno mai visto mai letto mai considerato o che non hanno amato altrettanto io posso farvi tranquillamente un altro esempio la meccanica del cuore ho sentito ho sentito solo parlare bene di questo libro ho soltanto sentito grandissimi elogi su Mathias Malzie peccato che io non l'abbia trovato così bello e mi chiedo se non sia io a sbagliare piuttosto che gli altri ad avere un'opinione troppo buona di questo libro e di questo autore ma potrei citarvene altri perché magari io e mia madre siamo innamorate di Pennac ci piace moltissimo Pennac ci piacciono i suoi personaggi ci piace il modo strano che ha di scrivere e quant'altro ma a molte altre persone questo mondo un pochino creepy perché ha quello sfondo creepy ogni tanto soprattutto nella saga di Malusen insomma la fata carabina il paradiso degli orchi e quant'altro sono personaggi strani in un'ambientazione particolare e possono piacere come no quindi anche se una persona non ama un libro fondamentalmente non vuol dire che questo libro sia un brutto libro potrebbe essere soltanto lontano dal nostro gusto personale quindi a questo punto io mi ritrovo ancora più confusa di prima perché sì ok la questione casa editrice mi ha portato a questa riflessione sui buoni libri e i cattivi libri è inequivocabile che ci siano dei libri che sono considerabili brutti a prescindere ma per tutto il resto della letteratura perché comunque abbiamo qualcosa di buono nel panorama letterario dipende tanto dipende dall'età del lettore dipende dal gusto personale dipende dalle letture pregresse dipende dalla propensione propria ad amare una cosa piuttosto che un'altra quindi per voi che cosa fa di un libro un buon libro? la tosse dite che è la tosse è la tosse che fa di un libro un buon libro no non è vero magari scrivetemi sotto fatemi sapere per voi che cosa deve avere un libro per attrarvi che cosa deve avere un libro per voi per avere una alta e buona opinione di lui perché io a questo punto sono oltremodo confusa chissà magari c'è qualcun altro un pochino confuso come lo sono io e facciamoci compagnia perché ogni tanto io parto in questi deliri deliri completamente mentali perché possono magari anche essere cose interessanti ma che mi tartassano il cervello finché io non ho una risposta che può essere corretta o no insomma finché non ho un tornaconto della serie finché io non ho un riscontro da un'altra persona non riuscirò mai ad avere una chiara e netta opinione di questa cosa perché la mia opinione non è insomma e poi può essere giusta come sbagliata quindi ho bisogno veramente che qualcuno mi dica anche il suo parere così che possiamo magari aprirci un mini dibattito per vedere davvero che cosa fa di un libro un buon libro fatemi sapere e noi ci vediamo molto presto un sacco di libri cioè di libri da leggere altro che un sacco di collaborazioni da fare un sacco di roba che non so quando farò ho un sacco di veramente di cosa fare se riesco questo weekend starò a Nancy con vado insomma mio padre viene in Francia anche una mia amica dalla Danimarca viene a Nancy perché c'è un torneo 7 di rugby molto molto bello torno nel mondo della mia vita e pensavo magari di farvi qualche video giusto per farvi vedere quel mio mondo che io amo tanto ma che ho lasciato un po' in disparte che voi non conoscete come il mio mondo fatto di parole libri e lette quindi niente ci vediamo prestissimo ciao grazie